Perchè gli uomini dovrebbero amare la Chiesa? Perchè dovrebbero amare le sue leggi? Essa ricorda loro la vita e la morte e tutto ciò che vorrebbero scordare. È gentile dove sarebbero duri e dura dove essi vorrebbero essere teneri. Ricorda loro il male e il peccato e altri fatti spiacevoli. Queste parole del grande Elliot, che hanno segnato l'inizio di questo meeting 2008 durante lo spettacolo inaugurale, credo ci introducano nel modo più adeguato e drammatico al dialogo, all'incontro, al nostro dialogo Chiesa e modernità, il dialogo necessario, che è originato in qualche modo dalla pubblicazione di uno degli ultimi lavori di Sua Eccellenza Monsignor Luigi Negri, arcivesco di San Marino Montefeltro, per un umanesimo del terzo millennio, il Magistero sociale della Chiesa, pubblicato dalle edizioni Ares di recente, in cui l'autore ha messo a frutto, raccolto e approfondito alcuni dei temi che lo hanno reso, visto il tema del meeting, protagonista dal punto di vista della battaglia culturale nella nostra società, a riguardo delle ragioni, perché noi siamo cristiani ma scommettiamo tutto sulla ragione dell'uomo, una battaglia sulle ragioni della presenza cristiana dentro l'agone della vita sociale. E allora abbiamo immaginato questo momento in cui alcune personalità della vita pubblica potessero portare il loro contributo. A partire da questa semplice domanda, ma perché il mondo, la modernità vale a dire tutto il precipitato di storia che oggi si sintetizza nella cultura che in qualche modo detta la mentalità, i costumi, gli atteggiamenti del popolo, di noi, gente che vive la realtà. Perché questo mondo dovrebbe avere bisogno della Chiesa? Quale utilità può avere il contenuto di proposta cristiano? E in questo noi abbiamo un faro, un riferimento chiaro e sicuro che indica il metodo, la strada di questa azione, di questa riflessione, di questa battaglia culturale che è sua santità Benedetto XVI. Perché in un contesto, in un contesto umano, culturale e sociale che ha ridotto la fede a un sentimento, una vaga etica, quasi che il contenuto dell'annuncio cristiano fosse qualcosa che c'entra dalle nuvole in su? O che peggio, ha rinunciato al problema della verità nel mancato discorso alla sapienza? Leggiamo. Il pericolo del mondo occidentale è che oggi l'uomo, proprio in considerazione della grandezza del suo sapere e potere, si arrenda davanti alla questione della verità. E ciò significa allo stesso tempo che la ragione, alla fine, si piega davanti alla pressione degli interessi e all'attrattiva dell'utilità, costretta a riconoscerla come criterio ultimo. Ma, conclude il Papa, se la ragione diventa sorda al grande messaggio che le viene dalla fede cristiana e dalla sua sapienza, inaredisce come un albero le cui radici non raggiungono più le acque che gli danno vita. E allora noi abbiamo invitato Mauro Mazza, direttore del Tg2 Rai, a introdurci a questo dialogo a cui seguirà la comunicazione di Sua Eccellenza Monsignor Rino Fisichella, rettore della Pontificia Università Lateranense che recentemente il Santo Padre ha caricato di un nuovo, possiamo dirlo, fardello di questi tempi, che è di presiedere la Pontificia Commissione per la Vita e capite che razza di responsabilità si è assunto in un momento in cui l'affermazione della vita e soprattutto delle ragioni della vita è un punto avanzato della battaglia per una fede ragionevole, amica dell'uomo e della sua ragione. E quindi ascolteremo Monsignor Negri al termine del nostro incontro. La parola a Mauro Mazza. Grazie Alberto, grazie a voi tutti. Io negli ultimi vent'anni ho mancato pochissime volte all'appuntamento con il meeting, l'ho seguito moltissime volte come inviato delle testate per cui lavoravo e da qualche anno, da quando ho il fardello dell'essere direttore del telegiornale, devo all'amicizia del meeting di essere qui come invitato, come ospite in un incontro. e devo dire, ma entro subito nel tema, non è una sviolinata, che il meeting ogni volta che ci si viene lascia un profondo segno nel cuore di chi c'è stato e lo lascia ogni volta diverso, non è mai lo stesso anche quest'anno il meeting, ogni volta è un segno diverso. E io credo che questa storia corale che il meeting incarna da tanti anni, che è una storia fatta da singole persone che si incontrano qui a Rimini, sia già una risposta, una risposta importante, una risposta possibile a quell'opzione che Monsignor Negri mette in evidenza nel suo libro ed è ripresa anche dal senatore Pera nella sua introduzione. L'opzione secondo la quale o si è moderni o si e cristiani. Il vostro essere qui, così numerosi, così attivi, così vivi, è una risposta in avanti, in positivo. Voi siete una delle dimostrazioni possibili che si può essere moderni e cristiani, che si può stare nel mondo contemporaneo, che si può vivere il nostro tempo senza condizionamenti, senza sudditanze, senza subalternità, dai riducibili e da protagonisti. E questo è un dato di fatto del quale dovrebbero prendere nota un po' tutti. Anche se, da vecchio cronista lo so bene, il meeting spesso viene visto e raccontato come se fosse un'altra cosa. a volte hanno provato perfino a paragonare questa vostra esperienza, i più giovani non mi capiranno, i più grandi sì, come una riedizione dei compagnucci della parrocchietta, che era quella cosa che che avevano fatto. Io credo che è difficile smentire se dico che compagnucce e parrocchiette ci sono e come, ma sono fuori da qua. Forse non lontano, ma fuori da qua. Io faccio il mestiere di giornalista da più di 30 anni e quindi le riflessioni mi vengono suscitate quasi sempre dai fatti che accadono. Anzi, penso che proprio dalle cose della vita si possono trarre riflessioni e occasioni per riflettere sulle cose che contano, senza pregiudizi ma anche senza risposte preconfezionate. Negli ultimi tempi qui in Italia a me pare che la drammatica vicenda di Eluana Englaro ci abbia fatto riflettere più di altre. perché proprio le continue, impressionanti, nuove frontiere della scienza, della medicina ci pongono oggi di fronte a questa vicenda, ma ce ne porranno sempre molte altre davanti a noi. E dico alcune cose, anche con un po' di provocazione che serve poi a stimolare gli interventi molto più autorevoli del mio che seguiranno. Primo elemento e prima riflessione è il dramma che vive questa donna. E lo vive forse consapevolmente, forse no. Non lo sappiamo fino a che punto. Ma anche il dramma del suo papà, che è giunto da tempo, sicuramente con sofferenza, alla determinazione da lui considerata come una scelta obbligata, come la sola scelta del bene possibile che si può ancora fare a sua figlia, di interrompere questo suo calvario. Io voglio dire, lo dico stando vicino a Monsignor Fisichella, che ogni volta che abbiamo coinvolto, anche in questo suo nuovo incarico, a riflettere con noi su questa vicenda, ha sempre premesso al suo ragionamento la solidarietà e la comprensione per la sofferenza della figlia e del papà. però lo voglio dire. Altre manifestazioni, altre espressioni e altre riflessioni non mi sono sembrate altrettanto comprensive. Alcune mi sono sembrate tentativi di cavalcare la vicenda, provocazioni mediatiche più o meno riuscite, insomma la difesa di posizioni più astratte e generali che non calate al cospetto del dramma questo ed altri che si stanno vivendo. Voglio dire che il progresso della scienza è inarrestabile. Abbiamo oggi, avremo sempre più tantissime altre vicende analoghe, perché i medici salvano, grazie alla loro bravura, ai progressi della scienza, le vite umane. Ma io lo dico sottovoce, cos'è che viene salvato dall'intervento dei medici? La vita? Qualcosa che le somiglia? Come ci prepariamo ad affrontarle queste realtà che si moltiplicheranno nel futuro? vedete, le mie sono riflessioni ad alta voce, non ci sono risposte preconfezionate. Chi deve stabilire se c'è e dove si colloca il confine della vita? I medici? I diretti interessati che quando stanno in ottima salute mettono per iscritto che se un domani si verificasse una situazione del genere io preferirei che i parenti è giusto attendersi a ospicare una legge parlamentare che stabilisca se c'è e dove c'è il confine? non è già stata sufficiente la legge sull'inizio della vita per cui una donna decide liberamente in assoluta autonomia se è giusto dare futuro a quella vita che è in grembo oppure sopprimerla? Non c'è stato sufficiente quella? Anche sulla fine vogliamo adesso una legge? Allora vedete io per dirla tutta ho paura che la scelta finale tocchi ai medici non vorrei che la scelta finale toccasse ai singoli individui o ai loro parenti o ai loro affini ma ho il terrore che della mia e della vostra vita possano scegliere Berlusconi e Veltroni, Casini e Di Pietro ho il terrore primo perché sarebbe un compromesso al ribasso tra posizioni in partenza molto lontane tra di loro e secondo perché mi ricordo che quando Di Pietro esercitava un altro mestiere ha già deciso dalla vita e della morte di alcuni non vorrei che si ripetesse vedete lavorare in un telegiornale impone ogni giorno di dare a chi ci segue elementi di riflessione chiavi di lettura, fatti, opinioni, se possibile separati e non confusi l'una con l'altra Monsignor Negri nel suo libro dedica alcune pagine al pericolo dell'idea di libertà sganciata dall'idea di verità vedete il laicismo più avveduto quello che si è fatto liberale nel senso della liberalità dell'atteggiamento non si presenta come irreligioso o antireligioso ma concede liberalmente diritto di tribuna a tutte le religioni indistintamente ai cattolici, ai protestanti, agli ebrei, ai buddisti, a quelli di Scientologi a quelli che credono nel Dio Odino e lo mette tutto sullo stesso piano parifica, relativizza mette tutte le opzioni religiose nella riserva indiana di quelle minoranze che vanno tutelate ma tanto sono in via di scomparsa questione di tempo a me pare affido anche questa riflessione a Monsignor Fisichella e a Monsignor Negri che la cultura cattolica qualche volta un po' troppo spesso si presti a questo gioco al massacro che è l'esatto contrario del confronto tra religioni o tra cultura cattolica e cultura laica è una specie e parlo di una cosa che conosco bene è una specie di par condicio quella par condicio che ha già dato il colpo di grazia alla politica italiana cioè la par condicio ha reso impossibile ai telegiornali il racconto della politica perché mette sullo stesso piano obbliga noi a mettere sullo stesso piano chi prende milioni di voti e chi il giorno delle elezioni è votato dai parenti più intimi e pochi altri qualche volta a me pare che l'abuso di par condicio faccia male alla Chiesa e al cattolicesimo che è parificata a pensieri ultraminoritari elitari a volte intrinsecamente pericolosi è un po' come quando dicono noi siamo contro tutti gli integralismi religiosi e così mettono sullo stesso piano gli attentati di Al-Qaeda e i roghi dell'inquisizione fatta altro rischio mi pare quello di relegare la cultura cattolica di costringerla di costringere noi giornalisti e telegiornalisti a mettere le posizioni di certa cultura cattolica dentro le cose più brutte dei telegiornali che sono i pastoni politici ma scusate non è per chiamarmi fuori dalla responsabilità non faccio nome ma soltanto il cognome ma se Don Sciortino prende quelle posizioni su famiglia cristiana dove possiamo metterlo nel sommario se non vicino al comunista Rizzo all'arrabbiato Gasparri o al democratico Franceschini è quello il posto se uno ambisce a fare leader politico non è il testimone della propria cultura popolare e cattolica se lo va a cercare ben altra è la parola o la presenza vengo alla domanda di Savorana di cui c'è bisogno la testimonianza che ci si attende è di altro segno nel libro Monsignor Negri che si fissa le linee del Magistero di Giovanni Paolo II in tema di dottrina sociale della Chiesa declina con chiarezza i principi di sussidiarietà e di solidarietà e così fornisce esplicitamente anche dei criteri di valutazione per noi del comportamento dei politici dei singoli e dei partiti in rapporto al bene comune è soltanto dai frutti che possiamo giudicarli la Chiesa ha il diritto a dovere di essere presente e c'è bisogno oggi Alberto della presenza della Chiesa soprattutto in un tempo come il nostro che ha conosciuto viva Dio il tramonto delle ideologie fallite responsabili di tragedie e di catastrofi colpevoli di decine e decine di milioni di morti che hanno costellato l'intero novecento e credo che proprio sul terreno delle domande decisive la Chiesa abbia il diritto dovere di dare di darci indicazioni e risposte in un momento in cui la cultura moderna quella che era partita dicendo ossia moderni ossia cristiani ha scoperto i propri limiti e credo forse sbaglio forse azzardo correggetemi che la Chiesa abbia il diritto dovere oggi di accompagnare il mondo moderno alla fine del viaggio e di comprenderlo fino in fondo di prenderlo con sé prenderselo sulle spalle e aiutarlo e aiutarsi ad uscirne io vorrei chiudere citando un grandissimo testimone di una cultura viva popolare libera che non si è resa agli orrori del totalitarismo in questo caso comunista è una citazione che riprendo dal libro di Negri ed è tratta del discorso che nel 78 pronunciò ad Harvard Alexander Solgenizzi il cammino che noi abbiamo percorso dopo il rinascimento ha arricchito la nostra esperienza ma noi abbiamo perduto il tutto il più alto che fissava in altro tempo il limite alle nostre passioni e alle nostre responsabilità noi disse Solgenizzi avevamo riposto troppe speranze nelle trasformazioni politico-sociali e ci si toglie quel che avevamo di più prezioso la nostra vita interiore ecco è proprio questa riscoperta della vita interiore della dimensione religiosa di cui oggi abbiamo bisogno e la Chiesa deve darci ne hanno bisogno tutti tutti coloro che con me e faccio una citazione dell'autore che a voi è in assoluto il più caro di tutti possono definirsi laici cioè cristiani vi ringrazio grazie grazie Applausi. La grande alternativa, o moderni o cristiani. Una sfida per noi che facciamo il meeting, per la realtà da cui nasce il meeting, molto provocativa e interessante. Perché noi siamo moderni e cristiani e se non fossimo stati moderni, Don Giussani, che era un uomo moderno ma cristiano, non avrebbe saputo incontrare la nostra umanità in questo tempo che lui spesso definiva tragico e bello. Ora ascoltiamo Sua Eccellenza Monsignor Fisichella. Grazie, grazie per essere qui anche quest'oggi. E grazie anche per le provocazioni che sono venute dal direttore Mazza. Provocazioni a cui personalmente non indietreggio, ma cercherò di affrontare sempre sulla linea delle provocazioni che sono giunte anche dal libro di Monsignor Negri. E cercherò di rispondere alla domanda che Savorana ci ha posto. Perché l'uomo moderno ha bisogno della Chiesa? Direi semplicemente perché l'uomo moderno è un uomo smarrito, è un uomo errante, non sa dove sta andando, non sa da dove viene e non sa dove sta andando e qual è il suo scopo ultimo. Ma è l'uomo di sempre, non è soltanto l'uomo di oggi. Perché se la Chiesa dovesse rispondere solo all'uomo di oggi, all'uomo moderno, allora dovrebbe essere condizionata nella sua missione da quelle che sono le domande che le vengono poste. Ma la Chiesa è anche una grande provocatrice. La Chiesa provoca a riflettere e lo fa soprattutto in un periodo come il nostro in cui si vuole teorizzare che la ragione è debole e che non è più capace di raggiungere la verità. Poiché la Chiesa conosce l'uomo, è esperta in umanità, allora sa che cosa c'è nel cuore dell'uomo. Sa quali sono le domande presenti nell'uomo e sono le domande di sempre. Da dove vengo? Dove vado? Perché il dolore? Perché la sofferenza? Perché la malattia? Mi hanno telefonato mentre ero in macchina e una giovane dipendente dell'università ha dovuto lasciare subito l'ufficio perché il fratello, giovanissimo, è uscito di casa, un tragico incidente e muore. Perché tutto questo? Che risposta si dà? Che risposta possiamo dare noi nel momento in cui dobbiamo celebrare continuamente? Quindi Dio è una parola carica di senso a quelle drammatiche situazioni quando giovani, adolescenti, la seconda causa di morte degli adolescenti in Italia oggi è il suicidio. Quando davanti a quei tragici incidenti di un sabato sera, perché la morte? Perché non sappiamo quando viene? Perché è di incertezza nella vita di tutto questo e ci sarà qualche cosa dopo la morte? Queste sono le domande dell'uomo, dell'uomo antico, dell'uomo nel Medioevo, dell'uomo moderno, dell'uomo postmoderno quando arriverà. Il problema è che l'uomo di oggi, a differenza del passato, mentre in precedenza c'era una visione unitaria dell'uomo e quindi una visione più umana, oggi la ragione con la quale noi ci incontriamo, ci scontriamo, è una ragione tecnica, è una ragione prettamente scientifica, è una ragione che non è più capace o non vuole più spingersi a conoscere la verità. E davanti a questo sorge il grande problema. Vedete amici miei, io credo che la Chiesa, lo si può dire con tutta tranquillità, la Chiesa non potrà mai essere nemica della scienza. Non lo è mai stata nel passato. Ma della scienza, non delle pseudoscienze, non della pretesa della scienza di dire l'ultima parola sull'uomo, della scienza come la conquista, perché l'uomo possa essere sempre con una vita più umana, perché la scienza possa essere capace di riconoscere lei stessa i propri limiti. Ma se la scienza pensa di essere un assoluto, se la scienza pensa di dover decidere della vita e della morte, perché, caro direttore, purtroppo non saranno neanche i medici a dover decidere, il problema grande sarà quale macchina dovrà decidere se ci sarà vita o se non ci sarà più vita. Questo è il grande problema. E questa macchina che cosa farà? Dirà che c'è vita dopo otto ore, che è stata installata dopo sei ore, come in queste ultime settimane veniamo a sapere di nuovi progetti, di nuove tecnologie che vengono messe a puntino. Il medico sarà sottoposto alla macchina. Chi dirà la verità sul fine della vita? E questo è il grande problema. Ed è questo anche il limite a cui la Chiesa vuole aprire gli occhi all'uomo di oggi. In questo uomo smarrito bisogna riproporre con forza la domanda sulla verità, non altrimenti. Quale verità? Quale verità? E non è la verità scientifica. Noi non siamo competenti in matematica. Noi siamo competenti sul senso della vita dell'uomo. Per questo la Chiesa non solo deve essere presente nel mondo, deve essere presente nella vita delle persone. Ma la Chiesa deve essere ascoltata, perché si parla del senso dell'esistenza. C'è una cosa, vedete, visto che è stato accennato del caso di Eluana. Ho sempre ribadito, e lo faccio anche adesso, con grandissimo rispetto per delle posizioni che io non posso condividere. Ho grande rispetto perché dover decidere è sempre una situazione drammatica. Perché una scelta comporta prendere qualche cosa e lasciarne un'altra. E quindi nessuno di noi può sostituirsi alla coscienza di un altro. Davanti alla coscienza si arresta chiunque, anche la Chiesa. Anche la Chiesa non entra nello spazio della coscienza. E forse solo il cristianesimo è in grado di rispettare la coscienza come nessun altro. Ma c'è una cosa che non capisco. L'accanimento del dover difendere la libertà di questa ragazza nel voler morire in un momento della sua vita. Non c'è un primato della libertà se questa non è in relazione con la verità e con l'amore. Perché questa è la grande parola che manca all'uomo di oggi. È l'amore autentico. Perché la Chiesa ricorda all'uomo di oggi che cosa è e in che cosa consiste veramente l'amore. Che non è la passione di un fine settimana. Che non è soltanto un distruggere se stessi facendo diventare il proprio corpo una merce, come ci ha ricordato Benedetto XVI nella sua prima enciclica. Per cui se l'amore è soltanto merce lo si acquista, lo si compera. L'amore vive di gratuità. L'amore vive di saper dare la propria vita, non di toglierla. L'amore vive di quella gratuità, di quel poter dare la propria vita ed è per sempre. Questo è quello che la Chiesa deve ricordare all'uomo di oggi. Che non esiste una genuina, un'autentica libertà se non è vissuta in relazione con la verità sull'esistenza e tenendo conto di quello che è lo scopo ultimo di ognuno di noi. Quello di poter amare e di dover amare nella maniera giusta. Se non viviamo così, non c'è vita umana, non c'è protagonismo alcuno, saremo nessuno. Perché senza amore non c'è vita umana, non c'è vita personale. Solo nella misura in cui si ama, tenendo come principio quell'amore che è crocefisso, là dove tutto viene dato, là dove niente viene tenuto per sé, ma là c'è un Dio che dà tutto se stesso senza nulla chiedere in cambio perché l'uomo neanche avrebbe potuto corrispondere alla grandezza di quell'amore. Solo nel momento in cui si ama in quel modo allora saremo capaci di essere protagonisti della nostra esistenza. Altro, amici miei, che parlare di arte e di appendere su quella croce che è simbolo di amore, simbolo di umanità, una rana. e rifiutarsi di doverla togliere. Queste espressioni queste espressioni gridano vendetta all'arte, sono una bestemmia all'arte, non c'è possibilità alcuna. non c'è possibilità alcuna di difendere l'arte perché l'arte è bellezza, non improperi. L'arte è ciò che permette la contemplazione. l'arte è ciò che permette la contemplazione della bellezza, non la gratuità dell'insulto a una fede. ma noi siamo abituati a questo e purtroppo viene dato per ovvio il nostro saper soffrire perché non possiamo dimenticarci che noi stiamo vivendo una situazione in cui, come nei primi tempi della Chiesa, i martiri sono ancora di oggi. quattordici persone quattordici persone, se non trenta, sono state uccise solo perché portano il santo nome cristiano. Più di quaranta chiese sono state distrutte. non so quanti oratori, non so quante case sono state bruciate frutto di un fanatismo che a Dio e Tua viene censurato dalle televisioni, dai mezzi di comunicazione solo perché siamo cristiani. questo, credo, è ciò che deve dare ulteriormente voce perché sono nostri fratelli, vivono in una regione lontana dalla nostra, ma ci appartengono nel momento in cui si infierisce su di loro, si infierisce su di noi perché noi siamo un solo corpo. Questa è la realtà della Chiesa. Questa è la realtà della Chiesa. Siamo un solo corpo perché viviamo di un solo battesimo, perché c'è un solo spirito, perché c'è una sola chiamata, c'è una sola fede e c'è una sola speranza alla quale siamo tutti quanti chiamati. Ecco perché mi fa sempre sorridere quando sento parlare di ingerenza della Chiesa, come se la Chiesa parlasse soltanto all'Italia. La Chiesa parla al mondo, la Chiesa parla sempre all'uomo, a ogni donna, parla a qualsiasi persona che è in ricerca del senso della propria vita. Però lasciatemi dire anche questo, abbiamo alcune carte da giocare ed è questo che permette alla Chiesa nel corso dei suoi duemila anni di essere ancora oggi protagonista nella vita delle persone. Perché, a differenza di tante forze che sono presenti nel mondo, la Chiesa vive di un incontro interpersonale interpersonale con ciascuno. La fede, fratelli miei, si trasmette così. Quello che è stato creduto nel passato e quello che viene trasmesso di generazione in generazione avviene solo in questo modo. Perché due persone si incontrano, si guardano negli occhi, una trasmette l'esperienza che ha avuto di Cristo e l'altra si accorge che sta parlando con credibilità, che è credibile. Se non fossimo credibili, allora il mondo non ci insulterebbe perché penserebbe che siamo dei suoi. Proprio perché siamo credibili, proprio perché siamo capaci di dare dei martiri, proprio perché siamo capaci ancora oggi, ininterrottamente, di riportare quella parola di vita che è una parola che da duemila anni suscita continuamente e il desiderio di cambiare la propria esistenza. Proprio per questo il mondo non ci vuole, perché gli ricordiamo a ognuno va dato lo spazio necessario. Perché noi non siamo tutti quanti uguali, siamo appunto protagonisti ognuno della propria vita. Il mondo di oggi ci vuole in una massificazione totale, ci vuole come dei numeri. già lo siamo per tanti versi, ma ci vuole come dei numeri. Gli diciamo di no. Gli diciamo che siamo persone e persona per sua stessa identità semantica significa relazione. Vedete, una curiosità a cui tante volte non si pensa. Il termine persona come è nell'accezione di oggi, cioè entrare in relazione, guarda caso, viene dal cristianesimo. Una delle grandi conquiste che il mondo di oggi ha acquisito lo deve a noi, perché nel quarto secolo quando si incominciava a cercare di trasformare questo termine, lo si è trasformato, prosopon che voleva dire maschera, lo si è trasformato alla luce del concetto di Dio che è Trinità. siccome i cristiani dovevano parlare di Dio come persona e come una persona che ama e che è in relazione ed è padre, figlio e spirito, allora questa relazionalità viene data anche a ciascuno di noi. Noi siamo persone, non siamo individui chiusi in noi stessi. Siamo persone aperte, persone che desiderano, sì, lo spazio di libertà, ma pur che questo sia sempre e soltanto in riferimento alla verità e all'amore. Più di tutti quanti gli altri noi possiamo essere alleati di questo uomo moderno. Questa espressione più di quanti di tutti quanti altri noi vi possiamo essere alleati è un'espressione antica, un'espressione che risale ancora, se non vado errato alla lettera di Barnaba, più di tutti quanti gli altri noi vi siamo alleati. E questo forse che dovremmo capire in un periodo come il nostro di una grande urgenza, l'urgenza di una formazione globale dell'uomo di oggi, non più frammentato in tante situazioni diverse, ma sempre e soltanto capace di poter essere se stesso. Amici miei, io non credo nelle ingerenze nella Chiesa, nella vita della società. La Chiesa vive nel mondo, la Chiesa siamo noi che siamo qui presenti, non siamo noi presenti nel mondo? La settimana prossima non incomincieremo di nuovo a ritornare sui banchi di scuola, nelle università, non andremo a lavorare di nuovo negli uffici, non saremo noi parte di questo mondo? L'uomo con il quale dobbiamo parlare, incontrarci, non siamo forse anche ognuno di noi? Noi non siamo altro. Certo, la Chiesa nella sua realtà è nel mondo ma non è del mondo perché Gesù ci ha detto questo, ma noi partecipiamo completamente di quello che è la realtà del mondo di oggi. Noi respiriamo la stessa aria dell'uomo moderno. Il grande problema è quello di dovercene accorgere, di non diventare un'isola ma di essere capaci di essere fermento. Questa è la nostra realtà. Non un'isola che si crea intorno a sé delle muraglie cinesi invalicabili. Non ci appartiene come immagine della Chiesa. Noi, Gesù ce l'ha detto, noi siamo fermento che alimenta la pasta. Ecco perché dobbiamo essere presenti. Ecco perché nessuno potrà rinchiuderci come la modernità avrebbe voluto rinchiuderci nelle sacrestie. Noi non stiamo nelle sacrestie, noi stiamo nel mondo. Nessuno potrà chiuderci la bocca perché se non parliamo noi non ci sarà nessuno che ha una parola di speranza per questo uomo smarito di oggi. E allora e allora anche nei casi più drammatici quei casi che toccano il senso della vita quei casi amici miei lasciatemelo dire con un filo di grande tristezza che trovano anche grande confusione tra di noi e perché purtroppo ho sentito troppe persone perché forse anche tre o quattro sono troppe che hanno pensato che fosse giusto dare la morte a Eluana. Da noi non ci si può aspettare una parola di morte da noi ci si può aspettare soltanto una parola di vita. La prima lettera di Giovanni su questo è chiara la vita si è fatta visibile e noi l'abbiamo vista ciò che con i nostri occhi abbiamo visto ciò che con le nostre mani abbiamo toccato ciò che con le nostre orecchie abbiamo udito cioè il verbo della vita perché la vita si è fatta visibile noi lo comunichiamo anche voi perché la nostra gioia sia anche la vostra gioia. Se noi per un attimo dimenticassimo questo l'uomo di oggi sarebbe disperato cioè senza speranza noi non possiamo permettercelo ecco perché ecco perché e concludo dobbiamo tenere nel cuore una considerazione grande fratelli miei quando si crede e si crede davvero si dà la vita e noi abbiamo tante testimonianze di questo quando si toccano i principi fondamentali del vivere del dare senso alla vita su questo non si discute su questo si dà testimonianza quando si toccano i fondamenti dell'esistenza dobbiamo dare all'uomo di oggi delle certezze non dei dubbi perché si tratta di vivere fondandosi sulla roccia che è Cristo sempre dovunque nonostante tutto qui non è questione di dialogo qui è solo questione di saper dare una parola che dia certezza alla vita qui abbiamo bisogno ancora una volta di recuperare in profondità la nostra identità chi siamo realmente qui dobbiamo capire quale è la nostra identità e a chi apparteniamo fino in fondo qui lasciatemi concludere con una breve espressione di una persona che spero diventi presto beato John Henry Newman che devo dire con tanta insolenza si è voluta confondere una profonda amicizia con qualche cosa che non tocca minimamente la vita dei santi e la vita di ognuno di noi perché l'uomo di oggi vedete è sempre abituato a equivocare l'uomo di oggi vuole andare a spalmare le proprie mani a sporcarsi continuamente di fango e siccome non è contento di sé schizza fango da altre parti e su anche altre persone John Henry Newman è stato un grande pensatore è stato un grande sacerdote è stata una persona che ha avuto il coraggio di rivedere le proprie posizioni un grande convertito del 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 diciannovesimo secolo ma John Henry Newman in una delle sue pagine dell'apologia per vita sua scriveva così io non permetterò mai che quell'evento che ha dato senso alla mia vita possa essere considerato come un reperto archeologico è vero è vissuto più di venti secoli fa ma la sua parola è una parola per oggi la sua persona vale per oggi il suo messaggio di amore vale per oggi noi amici miei siamo cristiani nessuno ci può togliere questa lasciatemelo dire questo orgoglio di essere tali potranno forse in alcuni momenti chiuderci la bocca potranno umiliarci potranno non darci spazio potranno ucciderci ma noi siamo cristiani apparteniamo a Cristo noi non apparteniamo a un momento noi apparteniamo la storia perché abbiamo fatto la storia grazie grazie Grazie. Grazie eccellenza perché... Speriamo che questo applauso del meeting affretti la canonizzazione del grande Newman che è stato uno dei grandi amori anche del nostro padre Don Giussani che ce lo ha indicato per la passione per Cristo che informava tutta la sua intelligenza e tutta la sua capacità affettiva. Comunque stia tranquillo perché nel vibrare delle sue parole oggi il cristianesimo, quello che lei ha chiamato l'evento citando Newman, non è risuonato come reperto archeologico perché tutta la sfida cristiana è nella contemporaneità, nell'oggi di quello che duemila anni fa era un giovane uomo ebreo che dette vita all'avventura più entusiasmante. E per questo fin da allora introdusse nel mondo la grande provocazione. E allora adesso ascoltiamo Monsignor Negri che quanto ha capacità provocativa non ha da invidiare a quasi nessuno. Raccolgo questa, come dire, questo invito di Alberto. Io oltre che a ringraziare Sua Eccellenza Monsignor Fisichella e Lottor Mazza di quello che hanno osservato sul mio libro, vorrei dare a questo mio breve intervento come il valore di un colloquio, brevissimo. Ripetere a me e a voi quelle poche grandi cose che consentono all'uomo di vivere, di lavorare, di amare, di soffrire e al momento in cui è sarà di morire. L'uomo che è noto a tutti, l'uomo che ha dato un contributo determinante alla mia personalità umana, cristiana, culturale, morale, Don Giussani ci ha insegnato che la cultura è coscienza critica e sistematica dell'esperienza. La cultura si fa non con i libri, si fa attraverso i libri, ma si fa nelle cose e sulle cose. Si fa sulla realtà, si fa incontrando gli uomini. Io la modernità, per il mestiere che facevo, la modernità l'ho incontrata certo nel rigore impietoso, che vuol dire senza pietà, con cui è diventato il più terribile progetto culturale, sociale e politico di creare un uomo senza Dio, una società senza Dio, delle istituzioni senza Dio, che avrebbero reso, secondo la potentissima intuizione di Grossman, l'intera società, un campo di concentramento. L'ho incontrata e ho sentito che questa deriva totalitaristica e nichilistica colpiva gli uomini del nostro tempo, colpiva i miei compagni di liceo, colpiva i miei ragazzi all'università, in liceo, colpiva la vita della società, la modernità, un enorme, terribile progetto, il più terribile progetto ateistico, che sia mai accaduto nella storia, come diceva l'allora Cardinal Voitia, predicando gli esercizi a Paolo VI nel lontano 1976, ma insieme, questa è la tragedia quotidianamente vissuta, la perdita dell'uomo, la perdita del singolo, non solo la creazione dell'ingiustizia e della violenza, quella terribile questione posta da Benedetto XVI, l'apostasia da Cristo conclude all'apostasia dell'uomo da se stesso. La modernità è questa variegazione, rigore ideologico, potenza tecnologica, perché la tecnoscienza è la estrema, radicale, pervasiva, eredità della modernità, ma insieme che l'uomo muore, l'uomo muore. Il Papa Giovanni Paolo II nel 1980, visitando Torino, nella sua prima visita, ebbe a dire, usando un'espressione di Ireneo di Lione, è possibile che l'uomo muoia. Io ho visto morire, non fisicamente, ma moralmente, moltissimi, moltissimi, che non avrebbero meritato questa morte, perché portavano nel cuore una domanda inesorabile e inesauribile, che nessuno sapeva cogliere, aveva saputo cogliere. Ecco, io credo che sia questo che la parola modernità ci evoca. È possibile che l'uomo muoia, eppure non è morto. È questo schiaffo che abbiamo ricevuto, è questo schiaffo che la mia generazione, dei primi amici Don Giunzani, ha ricevuto, nella vita quotidiana di ogni giorno, negli ambienti, nelle scuole, nelle università, nei quartieri. Il destino dell'uomo! Perché o la cultura serve al destino dell'uomo, o è carta straccia da buttare via. Allora mi permetterete la seconda suggestione che rievoco per me e per tanti di voi che l'avranno già sentita tante volte. Le due frasi capitali che realmente hanno significato nella mia vita intellettuale e nel mio lavoro come maturazione di tutto quello che avevo vissuto, dall'età del liceo in poi, ma una svolta, una svolta epocale. La prima è una frase di un grandissimo convegno su evangelizzazione d'ateismo, forse c'eri anche tu, nel 1980, il 15 ottobre del 1980, quando allora le cose le facevano pensandole in grande. Il Papa Giovanni Paolo II disse come non riconoscerlo con ammirazione? L'uomo resiste davanti a questi assalti ripetuti, a questi fuochi incrociati dell'ateismo pragmatico, neopositivista, psicanalitico, esistenziale, marxista, strutturalista niciano, una disamina perfetta e radicale dalla modernità e già dalla postmodernità. L'invasione delle pratiche e la destrutturazione delle detrine non impediscono, ma il contrario perfino fanno anche sorgere al cuore stesso dei regimi ufficialmente atei, come in seno alle società chiamate consumistiche un innegabile risveglio religioso. In questa situazione contrastante c'è una vera sfida che la Chiesa deve affrontare ed un impegno gigantesco che deve realizzare e per il quale essa ha bisogno della collaborazione di tutti i suoi figli, rendere di nuovo cultura, la fede, nei diversi spazi culturali del nostro tempo, reincarnare i valori dell'umanesimo cristiano. L'altra frase è la frase centrale, capitale, del numero 10 della Redento Rominis, che è, a mio modo di vedere, la radice più profonda e la capacità di espansione più grande che ha avuto il Magistero di Giovanni Paolo II. L'uomo rimane per sé stesso un essere incomprensibile. La sua vita è priva di senso se non incontra Gesù Cristo. E' a questo incontro che ho assistito, l'incontro fra la generazione che cominciava a ripensare al problema della propria esistenza esentiva contro tutti i consumismi e i conformismi e contro tutte le disperazioni o le soddisfazioni, quelle soddisfazioni e disperazioni che convivono benissimo insieme. Come una volta aveva il coraggio di dire il grande Arcivescovo di Bologna, oggi emerito Giacomo Biffi, dicendo della sua città, cioè di tutto il mondo, sazia e disperata, contro tutti gli ismi che ci sia una generazione che comincia da poco ma poi cresce, cresce, crescite undo, di gente che si mette in moto verso il mistero, che parte da sé, ma come diceva il grande Pascal per il fatto che si mette in moto è già oltre sé, perché l'uomo supera infinitamente l'uomo. La generazione di coloro che cercano Dio, ma lo cercano come il senso profondo della propria esistenza, come la radice della propria felicità, la radice del bello, del bene, del vero e del giusto. La generazione di coloro che cercano Dio, che i salmi hanno elevato alla più grande profezia della incarnazione e dall'altro la generazione di quelli che per grazia, non perché l'hanno meritato, portano dentro di fronte a questa compagnia la testimonianza di una cosa impossibile all'uomo, ma che Dio ha fatto, perché il verbo di Dio si è fatto carne, abita in mezzo a noi e la sua presenza rende l'uomo infinitamente più uomo di quanto non fosse all'origine e lo avvia verso il compimento di tutti i suoi, il compimento di quella verità di Dio che supera ogni desiderio, come diceva la liturgia settimana scorsa. Ho visto che in questi anni nasceva questa strana, profonda compagnia che, già radicata nel presente, vive e costruisce il futuro. La generazione di quelli che cercano Dio e hanno chiuso la strada e la porta del proprio cuore a ogni tentazione ideologica è la strada dei cattolici che non sono, gente che aggiunge alla vita di tutti l'optional di qualche liturgismo domenicale, di qualche lezio divina o di qualche pietismo settimanale, ma coloro che invece danno la grande e gioiosa testimonianza che in Cristo è contenuta, solo in Cristo è contenuta la possibilità di un'autentica e piena umanità. È questo, è questo il nuovo, è questo il nuovo che vibra fra di noi, nel mondo. Questa è la modernità che inizia. È finita la modernità sbagliata. Inizia una nuova modernità che è come dire è finito il laicismo e oggi i cristiani si possono incontrare con i laici, cioè con quelli che la tradizione cattolica chiama gli uomini di buona volontà. E lasciatemi da ultimo citare una delle frasi più belle che ho imparato in tutti questi anni di convivenza con Don Giussani. Diceva Don Giussani spesso che una delle intelligenze filosoficamente più vivaci dello secolo scorso francese, Gabrielle Marcel amava dire, ama chi dice all'altro tu puoi non morire. Io devo confessare davanti a tutti voi, senza tema di supponenza, perché nessuno conosce meglio di me i miei molti limiti, che non è passato un giorno della mia vita, da quando avevo 17 anni fino ad oggi, che non abbia sentito davanti ad ogni persona che si profilava nell'ambito della mia conoscenza il desiderio. E quindi la decisione di dirgli, amico, tu puoi non morire, soltanto che tu guardi nella profondità del tuo cuore che vuole il mistero e soltanto che tu cerchi di vedere questo mistero che ti viene incontro, perché come diceva Sant'Ignazio di Loyola, e per me non è citazione lieve citare Sant'Ignazio di Loyola, Dio salverà chiunque, piuttosto manderà un angelo. Per la maggior parte di voi che siete qui, l'angelo è venuto, si tratta che vi decidiate a corrispondervi. Grazie. L'uomo L'uomo rimane per sé stesso Come dicevo ai Giesini tanti anni fa, adesso basta. Grazie. L'uomo L'uomo rimane per sé stesso un essere incomprensibile se non incontra Gesù Cristo. Queste parole di Giovanni Paolo II riecheggiate nell'intervento di non riesco a chiamarlo mozione, di Don Negri sono il contributo che noi sentiamo di portare come passione alla vita dei fratelli uomini a questo mondo che Sua Eccellenza Monsignor Fisichella ha ripetutamente identificato col termine smarrito e diceva che noi possiamo essere più di tutti gli altri alleati dell'uomo moderno. Perché io sento di poter essere alleato? Perché io e tanti di noi eravamo, saremmo stati niente di più che quell'umanità smarrita se a un certo punto non ci fosse accaduto un incontro, diceva. Perché da soli non saremmo usciti da questa malattia mortale che dice che nulla vale, che nulla interessa che nulla muove più il cuore a noi è capitato e vorremmo capitasse ad altri attraverso di noi quella cosa spettacolosa che ha detto la Chiesa vuole riaprire gli occhi dell'uomo cosa c'è più entusiasmante per un uomo che poter aprire gli occhi di nuovo sulla realtà conoscere e quindi godere di ciò che il reale gli fa sorgere davanti perché questa è l'avventura cristiana che ci fa sentire più moderni dei moderni più avanti di coloro che si ritengono più avanzati nella nostra società e questo col meeting cerchiamo di realizzare di offrire come un esempio ben sapendo che è un niente ma è un niente come diceva Don Negri adesso in cui si scorge qualche tratto di un inizio nuovo perché è interessante che loro non si sono attardati nella lama in tela come capita spesso, a volte spesso, di sentire ma ci hanno ributtato la sfida per la grandezza di ciò che ci è capitato noi sentiamo di poter dare un contributo perché c'è un libro che alcuni di noi stanno leggendo da quasi un anno di Don Giussani che si chiama Si può vivere così dove lui mostra come le parole cristiane che la modernità ha cercato di espellere dalla vita dell'uomo la fede, la speranza, la carità, l'obbedienza il sacrificio non sono un'altra cosa rispetto alle parole umane ma ne sono la verità questa verità non è il termine di un discorso ma è il contenuto di un'esperienza che si può fare oggi come duemila anni fa prima di lasciarci e dopo aver ringraziato i nostri tre ospiti e augurato a Don Negri di continuare nelle sue produzioni mi permetto solo di ricordare che tra pochissimo alle 17 in auditorium di 7 si svolgerà l'incontro alle radici della diversità oltre il multiculturalismo che avrà come protagonisti il teologo anglicano dell'Università di Nottingham Milbank e il teologo della Facoltà Teologica di Madrid Javier Prades introdotti da Roberto Fontolan che è il direttore del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione ricordo anche che ha finito l'incontro Don Negri sarà in libreria per chi lo vuole per firmare copie del suo libro grazie a tutti e buon pomeriggio grazie Grazie a tutti.